Scatman's World Scatman's World Scatman's World Buona raga, come avete capito ho bisogno di un difensore centrale e di un centrocampo centrale Allora il sondaggio è il seguente Allora I giocatori in ballo sono Allora per difesa centrale o Astori o Roncaglia per il centrocampo o Ericsson o Bender o Draxler Quindi ragazzi cosa dovete fare Sotto questo video in descrizione c'è sempre il link di facebook con scritto Tra Astori e Roncaglia per la difesa e Bender, Draxler e Ericsson Chi volete per il Napoli Faccio un esempio Se volete Astori e Draxler sotto questa discussione, questo post su facebook Dovete scrivere Astori e Draxler Così dopo chi prende più voti Se ti può prendere più voti Astori e Draxler Chiaramente compro loro due Se non arrivano perché non me li vogliono vendere Vado sul secondo che ha preso più voti Se neanche il terzo Se anche il secondo non va bene sul terzo Se anche il terzo non va bene Allora in quel caso devo scegliere io Però mi sembra difficile Comunque metto sempre i giocatori Dall'obiettivo non impossibile Niente ragazzi è molto semplice Ho 30 milioni di euro di budget Quindi siamo messi abbastanza bene E niente Ecco sono molto Ci tengo molto a questa serie ragazzi Perché è una serie che può veramente unire molto il cumendone e voi Io sono contento di questo Perché comunque il canale non è solo mio Ma è nostro Nel senso Tutti diamo una mano a migliorare il canale Io con i video Voi con i mi piace Con le visualizzazioni Questa roba è qua Quindi alla fine è una cosa Dove ci siamo tutti in mezzo E questa carriera interattiva può Come si dice Migliorare ancora di più Il nostro rapporto youtubiano Quindi sotto questo video in descrizione Il link di facebook Con scritto Acquisti per Napoli FIFA 14 Carriera interattiva Astori O Roncaglia Per la difesa Eriksen Draxler E Bender Per il centrocampo Sotto questo post Astori E Draxler E ho capito che volete questi due Perché dovete scegliere Un difensore E un centrocampista Niente raga Siamo a posto Dal prossimo video Andiamo con tre partite a video Perché non posso Non posso tagliare purtroppo Con Avermedia Perché è un casino Perché mi fa un file audio E un file video Quindi sarebbe un casino storico Però con 4 minuti Livello campione Assicuro che 4 minuti Sono divertenti Ho già provato È un disastro E niente Quindi dal prossimo video Partiamo con tre partite E dopo anche sui moduli Sui giocatori da mettere in campo E su altre cose Ci saranno sempre sondaggi Sempre per rendere il tutto interattivo E per dare la possibilità anche a voi Di giocare con me praticamente Quindi raga Un saluto dal cumendone Cummenda veneziano Cummenda veneziano Cummenda veneziano Lo youtubers italiano Cummenda veneziano Cummenda veneziano Cummenda veneziano Lo youtubers italiano